A Ragusa il centrodestra deve ancora sciogliere la riserva sul candidato sindaco da appoggiare alle amministrative del 10 giugno. A Modica invece il centrodestra è compatto per la candidatura di Gabriele Amore, responente della Lega. Un'inaugurazione a sorpresa e senza cerimonia, quella del pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica. Per il sindaco Ignazio Abate è un sogno che si avvera prossima sfida per Abate, il raddoppio del numero del personale medico infermieristico. Dopo il degrado in cui versa la frazione di Cavadali che è ripreso dalle nostre telecamere, il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha accolto le lamentere dei residenti e si è già messo al lavoro. Prima del 25 aprile ha detto la frazione sarà rinata. È stato intitolato l'appuntato Giorgio Scifo, medaglia d'oro al valore civile, alla memoria, alla caserma dei Caraviglieri di Ragusa Ibla. Oggi la cerimonia alla presenza dei familiari delle massime autorità provinciali. Buon pomeriggio ancora ben trovati a questa nuova edizione di METG e buon pomeriggio a chi ci segue su Facebook. In apertura della politica partiamo da Ragusa con le amministrative perché forse l'Italia non ha ancora sciolto il nodo sul candidato sindaco da sostenere. Il coordinamento cittadino deciderà lunedì dopo un incontro con i tre candidati che sono espressione del centro-destra come Sonia Migliore, Maurizio Tumino e Peppe Cassi. Decisiva sarà anche la convergenza sui punti programmatici. Intanto nessuno dei tre candidati a sindaco intende fare un passo indietro. Per tutti i dettagli sentiamo Carmela Minardo. Abbiamo testardemente e con molta determinazione cercato di portare a unità le varie proposte amministrative nel campo di centro-destra. L'ultimo tentativo come le ricordavo è stato esperito 48 ore fa ma non ha assortito l'effetto che desideravamo. Impossibilitate ad advenire ad una candidatura unitaria su Ragusa per il prossimo 10 giugno, Forza Italia si riserva di decidere lunedì prossimo dopo un incontro con i tre candidati che rappresentano il centro-destra. Peppe Cassi, sostenuto tra gli altri da Fratelli d'Italia, Maurizio Tumino, espressione del Movimento Insieme e Sonia Migliore che si presenta con sette liste civiche al suo fianco. Il simbolo sarà posto sulla scheda elettorale a fianco del candidato che presenterà un programma che converga sui punti programmatici sostenuti dal partito di Berlusconi. A 48 ore dall'incontro che si è tenuto a Palermo con i responsabili regionali per fare il punto sulle candidature di tutti i comuni siciliani, arriva la decisione di rinviare ulteriormente. Ieri sera ci siamo riuniti e abbiamo deciso che non possiamo scegliere sulla base dello spot più accattivante o della fotografia meglio riuscita di questo o di quell'altro candidato o semplicemente sui trascorsi personali o l'attività politica svolta. Pertanto su cinque punti programmatici che noi riteniamo come Forza Italia assolutamente fondamentali, lunedì stesso incontreremo i candidati per individuare quel candidato che riesce a darci dal punto di vista delle risposte a questi cinque problemi che sono fondamentali per la città di Ragusa e dal punto di vista anche della credibilità e capacità personale di portare avanti il candidato che sosterremo come Forza Italia. E se Sonia Miglior annuncia il sostegno di Salvo Mallia, ex assessore di Forza Italia, storico esponente del centrodestra, primo disegnato nella squadra assessoriale, il coordinatore provinciale Mauro Frena. I percorsi di partito di Forza Italia si fanno all'interno del partito stesso. Se Salvo Mallia ha ritenuto di fare un percorso a parte, incontrando direttamente la candidata migliore, lo avrà voluto fare, ma il partito ancora non ha deciso il sostegno. Stessa situazione per quanto riguarda l'appoggio di Ciccio Barone a Peppe Cassì. Fino a ieri sera Orazio Ragusa, assolutamente, Orazio Ragusa è sulle posizioni di Forza Italia, anche lì il sostegno di Ciccio Barone non è a nome di un partito, ma a nome della civica che rappresenta. Questa è la posizione che mi risulta dell'onorevole Ragusa. A Modica invece il centrodestra ha fatto sintesi convergendo su un unico candidato sindaco, espressione della Lega Gabriele Amore, 36 anni veterinario, da un anno impegnato attivamente in politica. Questa mattina in conferenza stampa è stato ufficializzato l'appoggio di Forza Italia a questa candidatura ed è stato anche presentato il programma. Tra una settimana sarà sciolto il nodo anche delle liste. Il centrodestra modicano Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia ha seguito la linea nazionale convergendo su un candidato a sindaco unitario. Il coordinatore cittadino della Lega Gabriele Amore, giovane, 36 anni veterinario, da un anno impegnato in politica. Un volto fresco con la volontà del fare e con lo spirito del conservare per rinnovare. Così è stato presentato dal leader regionale della Lega, Angelo Attaguile, arrivato da Granmichele per sostenere attivamente e moralmente Gabriele Amore, al quale si è detto legato. Un legame che Attaguile ha confermato di avere anche con Modica e con l'obiettivo di arrivare al ballottaggio con la doppia A, Amore, contrabbata, il sindaco uscente. I tre partiti hanno affondato la base della campagna elettorale su 12 punti tasse, lavoro, immigrazione, ambiente, istruzione, sport, infrastrutture, sanità, pubblica istruzione, sdegliere la burocrazia con un occhio di riguardo ai disabili. La parola d'ordine è progettualità. Sono 12 punti programmatici, tra i quali le tasse, il lavoro, l'immigrazione, l'ambiente, la sanità, l'agricoltura, sulla linea di quello che Matteo Salvini, il leader nazionale della Lega, propone per costituire un ministero della disabilità, anche a Modica, vogliamo mettere la nazionale forte, con un assessorato ad hoc. La notizia che la città attendeva è stata ufficializzata stamattina. Forza Italia ha sciolto la riserva, confermando un appoggio a Gabriele Amore. Ci siamo riuniti e abbiamo visto che alla fine il progetto era uguale, c'è quello di dare alla città una progettualità, un'inversione di marcia rispetto a quello che riteniamo sono stati questi cinque anni di amministrazione abbate. Noi vogliamo innanzitutto poter riuscire a arrivare a ballottaggio e poi lì fare un percorso comune con altre forze, se riusciamo a raggiungere quel famoso 51% di ballottaggio, vogliamo amministrare cambiando realmente la città. L'obiettivo è posizionare Modica al centro del percorso del sud-est, renderla protagonista. Fratelli d'Italia rappresentata a Modica dal coordinatore Emanuele Cavallo ha anticipato le priorità. Modica ha bisogno di una progettualità, una nuova piattaforma, secondo me socio-economica, a fine di poter dare opportunità nuove alle nuove generazioni e deve dare che queste invece siano costrette ad emigrare per trovare lavoro e occupazione. Si può fare un buon lavoro, in questo senso la progettazione deve essere organica. parliamo di vivibilità intanto della città e quindi un progetto nuovo di mobilità alternativa a quella che conosciamo. Il coordinatore provinciale della Lega Luigi Melilli si è detto soddisfatto per il fruttoso lavoro svolto a Modica dai tre partiti che hanno, dopo una serie di confronti e trattative, raggiunto l'obiettivo della sintesi e dell'unione. Quasi a sorpresa, senza cerimonie, inaugurali e tagli del nastro, si sono aperte oggi le porte del nuovo pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica che è stato consegnato all'intera comunità. Presenti il sindaco Ignazio Abate, il direttore sanitario del nostro comio Piero Bonomo e finalmente per il sindaco, così come lui stesso ha dichiarato, è un sogno che si avvera. Ce ne parla Giada Giacquinta? Siamo riusciti a realizzare un'opera importantissima, uno dei reparti più moderni dell'intero mondo sanitario regionale. Con queste parole il sindaco di Modica Ignazio Abate esprime la propria soddisfazione per la tanto attesa apertura del pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica, consegnato questa mattina alla comunità senza tante cerimonie. Una scelta voluta per evitare di allungare ulteriormente i tempi, come ha dichiarato il primo cittadino, che sottolinea come questa sia la prima mai realizzata in Sicilia con il metodo del cofinanziamento, con i fondi dell'Asp, con quelli messi a disposizione dal comune, circa 350 mila euro, per un debito antico nei confronti dell'Asp, scaturito dall'utilizzo dell'ex ospedale San Martino di Modica Alta per la sede dell'università. Quattro anni e mezzo di grande impegno da parte di tutti, dall'amministrazione comunale, da tutti i miei collaboratori, dal mio vice sindaco. Devo ringraziare veramente il direttore sanitario dottore Bonomo, ma anche il direttore aziendale prima Ricò e ora Ficarra, perché hanno creduto e hanno supportato il nostro progetto. Il resto l'hanno fatto gli uffici, l'ingegnere Lorenzo Aprile e tutti quelli dell'ufficio tecnico dell'Asp. Tutto questo porterà anche la possibilità di poter raddoppiare il numero di personale, per questo ringrazio anche l'assessore Razza che con il presidente Musumeci che ha deciso di aprire direttamente il pronto soccorso perché non si poteva ormai intergiversare, quindi aspettare inaugurazioni inutili e invece subito consegniamola alle nostre comunità. All'apertura era presente il direttore sanitario del nosocomio, Piero Bonomo. La struttura è una struttura importante, ovviamente come dicevo prima sono soddisfatto a metà sulla opportunità di fare l'inaugurazione, io direi di farla quando avremo il personale adeguato, perché come sapete benissimo le assunzioni le può fare solo la regione e questo ci tengo a dirlo perché molti cittadini sono convinti che l'ospedale di Modica possa assumere e non lo voglio fare. Una struttura che viene inaugurata, un'altra che invece è totalmente abbandonata, rimaniamo ancora a Modica, mi sto riferendo al campo sportivo Caltina dedicato a Pietro Scollo, oggi ritrovo di rifiuti, anche i tribune sono inagibili, non sono omologate. La denuncia dopo aver effettuato un soprologo questa mattina è del candidato sindaco Salvatore Poi domani. A chi è legato agli anni d'oro del Modica Calcio, allo sport della città, Pietro Scollo, storica guida del calcio modicano, verrà una stretta al cuore nel vedere come è ridotto il campo del Caltina intitolato proprio allo zio Pietro Scollo. La lapida in suo ricordo è ricoperta da serpaglie, una folta vegetazione circonda tutto lo stadio le cui tribune non sono omologate. Un pezzo di storia in declino, seguita dalla denuncia del candidato sindaco a Modica, l'avvocato Salvatore Poi domani, che stamattina ha effettuato il soprologo prendendo atto dello scempio che circonda la struttura sportiva. Questa è una struttura dedicata, come ha detto lei, a un grande personaggio della città, Don Pietro Scollo e stamattina appunto vi ho chiamato per verificare lo stato di assoluto degrado e di abbandono di questa struttura. Io parlo di sport perché tra le priorità del nostro programma, oltre a quello del recupero del centro storico, c'è anche quello di promuovere e sviluppare lo sport. È inutile che dica dell'importanza dello sport per tutti, anziani e giovani e quindi come si può sviluppare lo sport? Come al solito, cercando di intercettare quelli sono i finanziamenti per costruire nuove strutture, nuovi impianti, ma soprattutto finanziamenti, questo addirittura, come mi dicevano gli addetti ai lavori, la cosa più semplice è avere finanziamenti anche regionali per la manutenzione delle strutture già esistenti. Purtroppo di questo, come al solito, non viene fatto nulla perché ci dediciamo ad altri. Il presidente della running Modica, che alena circa 100 persone dai 7-60 anni, ha parlato di una situazione insostenibile allo sbando, un campo anche pericoloso dove il quadro elettrico è posizionato e l'ingresso è accessibile a tutti. La pista di atletica non è conforme al tipo di attività, tant'è che campioni regionali, financhi europei come Giuseppe e Giorratana hanno deciso di sloggiare per allenarsi altrove. Il Comune ha consegnato le chiavi dell'impianto a un anziano che fa il custode, incaricato ad aprire le porte tra le società, le porte di un centro che invecchia con la complicità e l'indifferenza del Comune unico proprietario. Noi siamo abituati a cambiarci qui in queste pseudo panchine che diventano per noi lo spogliatoio e noi effettivamente vediamo che fra i nostri tesserati sono dei ragazzi che si allenano in questa struttura, si allenano, fanno a volte anche allenamenti in mezzo alla strada, però la cosa che deve essere messa in risalto è che abbiamo dei grossi risultati, sia a Modica che nella provincia di Ragusa, che ci sono parecchi titoli anche vinti nelle varie discipline che vanno dalla velocità a mezzo fondo eccetera. Abbiamo delle eccellenze che devo dire con estrema rabbia non meritano questo tipo di trattamento. Siamo ancora nel picco dell'epidemia da morbillo, lo sottolinea il direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale Garibaldi di Catania che è la città più colpita a livello regionale con circa otto nuovi casi al giorno di gente che si rivolge ai nosocomi a cui vanno aggiunti coloro che anche si rivolgono al medico di famiglia. Facciamo il punto nel servizio di Sara Donzuso. Ogni giorno nella città di Catania si registrano sette, otto casi di morbillo, un dato questo che fa emergere come l'epidemia non tende a decrescere. Anzi, come sottolinea il professore Bruno Cacopardo, direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale Garibaldi e direttore della scuola di specializzazione di malattie infettive dell'università di Catania, siamo nel picco dell'epidemia senza nessuna fase calante. Ogni giorno solo al pronto soccorso del Garibaldi arrivano dei due e quattro casi. Più altri casi si registrano e gli altri nosocomi. Quindi arriviamo ai sette, otto casi al giorno, dice ancora Cacopardo, senza dimenticare che molti non si regolano negli ospedali ma si rivolgono ai medici di base. Dunque siamo in una fase stabile del picco. A mio avviso, aggiunge il docente, solo con l'inizio del mese di maggio, quando si assisterà a una risalita delle temperature, ci potrà essere un non possibile decremento. Non possiamo però parlare di arresto dell'epidemia, che, secondo me, dice ancora il professore Cacopardo, si avrà nel giro di due-tre mesi. Catania resta la città più colpita a livello regionale, quella con il più alto numero di casi giornalieri. E non possono essere i lavoratori a pagare il prezzo di una mancata assegnazione della gara d'appalto sui rifiuti. Quanto pensano i sindacati ed è quanto ribadito anche ieri durante un vertice con il sindaco di Catania, dopo la protesta dei lavoratori del bacino prefettizio che un paio di giorni fa, hanno occupato l'aula consigliare del comune di Catania e si sono anche arrampicati sul cornicione stesso del palazzo di città, minacciando gesti estremi. Parla di percorso limpido e trasparente il sindaco di Catania, Enzo Bianco, in merito alla delicata vicenda che riguarda l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti a Catania. Come sappiamo, quattro gare sono andate deserte ed è per questo che i lavori del bacino prefettizio due giorni fa hanno deciso di protestare, occupando prima l'aula consigliare e rappicandosi poi sullo cornicione dello stesso palazzo di città. Ieri un vertice in prefettura con i rappresentanti sindacali al fine di trovare una soluzione. Come ribadito dal sindaco Enzo Bianco, questi lavoratori hanno l'appoggio sia dalla parte amministrativa che da parte del prefetto di Catania e dal prefetto di Fermo, che ha deciso anche di inviare due commissari. Siamo stati ascoltati, ha detto Bianco, con la dovuta attenzione. Le nostre rimostranze sono state pienamente accolte. Questo darà la possibilità di offrire uno spazio nei limiti e nei termini consentiti dalla legge perché queste persone tornino a lavorare la città ad essere pulita. Il sindaco Bianco ha infatti ribadito che per quanto riguarda l'affidamento per la raccolta dei rifiuti, il nuovo bando è già pronto e la gara partirà una volta acquisiti i pareri di Collegio di Difesa e ANAC. I sindacati ribadiscono che la città non può pagare il caro prezzo di un non problema che non dipende dai lavoratori, ma da una incapacità di gestire un settore delicato come quello della raccolta dei rifiuti. Abbiamo detto, la nostra più volte la soluzione risiede proprio nell'assunzione dei disoccupati del bacino prefettizio. In questo modo sarà salva la pulizia della città, ribadiscono ancora i sindacati. I diritti ai 105 addetti di tornare al lavoro come d'accordi istituzionali e il diritto alla sicurezza sul lavoro e delle giuste ore di servizio per gli addetti che un non lavoro nel comparto ce l'hanno già. Aspettiamo con fiducia, concludono i sindacati. Crediamo nella collaborazione tra i cittadini, sindacati e istituzioni. C'è la cronaca con una banda specializzata in furto con spaccata per estrarre e rubare Bancomat dalle banche degli uffici postali delle province di Catania, Siracusa e Denna che è stata sgominata dopo le indagini dei carabinieri della compagnia di Gravina coordinate dal sostituto procuratore Andrea Norzi. Nei confronti degli otto indagati il GIP Anna Maria Cristaldi ha messo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza a vario titolo l'associazione parte delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine. Il gruppo secondo l'accusa aveva come base logistica il rione di Librino a Catania in due occasioni non avrebbe esitato per favorire la fuga a travolgere un poliziotto e anche un carabiniere. Le indagini dei carabinieri di Gravina coordinate dal PM Andrea Norzi e dall'aggiunto Ignazio Fonso si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali. Ed è stato identificato e deferito dalla Polizia di Stato di Modica il secondo albanese accusato della rapina aggravata in concorso con un connazionale condotto in carcere nei giorni scorsi perpetrato in danno di un 67enne modicano titolare di un bar a Modica Alta. Il secondo soggetto è tuttora irreperibile. La Polizia coordinata dalla Procura sta continuando le indagini al fine di intercettarlo. Lo ricorderete la scorsa settimana il 67enne era stato bloccato di spalle dei due albanesi che lo hanno minacciato con pistole e coltello per farsi consegnare 800 euro. La stessa vittima ha subito denunciato i fatti fornendo elementi utili alla Polizia di Stato che nel volgere di neanche 48 ore ha arrestato il primo autore, un albanese di 36 anni già noto, creato in materia di stupefacente. Il compice, appunto il secondo autore della rapina aggravata, è stato già identificato ma tuttora è ricercato. Arriverà domani mattina al porto di Pozzallo la nave Aquarius di SOS Mediterranea di Taranè e personali medici senza frontiere con a bordo 164 migranti come vuole la prassi. Saranno poi effettuati tutti gli accertamenti sanitari del caso dal medico del porto Vincenzo Morello e poi saranno anche avviate le operazioni di fotosegnalamento e identificazione a seguire poi anche l'accoglimento all'ingresso all'interno dell'hot spot di Pozzallo. Voltiamo pagina dopo il nostro servizio di denuncia sulle condizioni in cui versa Cavadaliga arrivano delle risposte da parte dell'amministrazione guidata da Enzo Giannone. Cosa più importante è che al di là delle dichiarazioni arrivano anche gli interventi. Ce ne parla Marco Scavino. Il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha accolto le lamentele dei residenti di Cavadaliga lo avevamo denunciato nei giorni scorsi la frazione versava sotto più punti di vista in condizioni di degrado dalle discaliche a cielo aperto alle perdite idriche alla spiaggia sporca passando per il lungomare i disservizi erano un po' ovunque oggi un incontro al camping di Bruca ha fissato i punti di partenza per tutti i lavori già nella giornata di ieri l'amministrazione ha provveduto a ripulire l'arenile continueranno gli interventi per intercettare e rimuovere le discariche interventi anche per le strade e in particolare per il lungomare. Già prima del 25 aprile le spiagge ciclitane sono pronte ad accogliere chi ne vorrà fruire su Cavadaliga così come sulle altre borgate e poi dello ciclitano oltre alla sistemazione complessiva, alla normale manutenzione e alla straordinaria manutenzione dell'esistente è in atto quello che facciamo sempre la bonifica delle discariche abusive che ahimè ancora in parte sono presenti e che si cerca di eliminare invitando anche i cittadini a non alimentarle. Capito la parte per quella che rappresenta la ferita della frazione la struttura della scogliera che sta cadendo a pezzi e deturpa il paesaggio. Ex ristorante scogliera dove è in corso un progetto di ristrutturazione da parte di privati questo progetto ha avuto dei rallentamenti di tipo burocratico presso altri enti ma è nella fase di sviluppo. Giannone ha parlato anche di programmazione estiva. Sarà allestito un ricchissimo cartellone di manifestazioni estive di vario tipo musicale, artistiche, culturali, ricreative per giovani, anziani. Parliamo ancora di altri disagi, quelli che si vengono a creare in via sacro cuore a Modica soprattutto quando piove. Mesi fa i commercianti hanno denunciato che dopo le abbondanti piogge l'acqua raggiunge l'ingresso dei negozi e gli stessi commercianti proprietari dei negozi avevano chiesto degli interventi urgenti al sindaco Ignazio Abbate. Martedì prossimo il primo cittadino ha assicurato che inizieranno i lavori per la raccolta delle acque bianche. Purtroppo non si può arrivare in tutto, in tempi record, ma l'importante è portare a termine i lavori. Risponde così il sindaco di Modica Ignazio Abbate alle lamentele di un gruppo di commercianti della via sacro cuore che hanno contattato la nostra redazione per manifestare il loro dissenso in riferimento alla mancata esecuzione dei lavori su cui si era tenuta pure una riunione. Il caso fu sollevato dalla nostra redazione durante l'inverno appena trascorso quando, durante le abbondanti piogge, i locali commerciali di un determinato tratto della via sacro cuore venivano raggiunti da litri e litri di acqua e che in molti casi hanno causato danni e infiltrazioni. Il sindaco ha riferito che i tempi si sono allungati a seguito delle operazioni burocratiche. Abbate infatti ha fatto riferimento a fondi per opere per le acque bianche che da poco sono state calendarizzate. Faremo il possibile, ha detto il primo cittadino, per rispondere concretamente e quindi con i lavori ai commercianti della via sacro cuore che rappresenta per il tessuto economico modicano un tassello importante e a cui già in passato abbiamo mostrato attenzione con l'installazione delle luci a LED. Intanto, lunedì, da parte del Comune, ci sarà un sopralluogo tecnico e martedì dovrebbero iniziare i lavori, ha assicurato il primo cittadino. Approvata in commissione bilancio l'Assemblea regionale siciliana dopo una lunga notte di lavori e la finanziaria regionale e la manovra ha ottenuto il Via Libera questa mattina col voto contrario del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle a partecipare come membro e a sostegno dei suoi emendamenti l'onorevole Nello Di Pasquale siamo riusciti a finanziare la legge su Ibra per un milione di euro abbiamo stanziato altri 10 milioni di euro per la tutela del patrimonio storico, architettonico e monumentale dei siti UNESCO. E' stato accettato inoltre, scrive Di Pasquale, lo stanziamento di 500 mila euro come ristoro per la città di Pozzallo e 50 mila euro sono stati destinati al Tribunale di Modica. Tra invece gli emendamenti votati a favore dell'aeroporto di Comiso un milione di euro sarà destinato all'implementazione dell'attività a cargo un milione e 320 mila euro sarà invece destinato ai servizi di assistenza a volo e 4 milioni e 316 mila euro sono i finanziamenti per il triennio 2018-2020 per gli aeroporti di Comiso e Birgi per le nuove tratte. Infine è stata autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2018 per ampliare la platea dei beneficiari del reddito di inclusione. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Ancora ben trovati in studio, è stata intitolata l'appuntato Giorgio Scifo medaglia d'oro al valore civile alla memoria alla caserma dei carabinieri di Ragusa Ibla Scifo perse la vita nel 1969 a Breganza in provincia di Vicenza nell'adempimento del proprio dovere questa mattina la cerimonia di intitolazione. Siamo orgogliosi di essere qua oggi e onorati perché queste celebrazioni dimostrano anche dopo 50 anni dalla morte di mio padre non è stata in vano la morte, il sacrificio di mio padre. A distanza di 49 anni dalla morte dell'appuntato Giorgio Scifo è stata intitolata alla sua memoria la caserma di Ragusa Ibla. Scifo, assegnato alla stazione carabinieri di Breganza in provincia di Vicenza perse la vita il 19 settembre del 69 nel tentativo di disarmare un giovane che sparava all'impazzata con un fucile gli aveva già ferito il proprio padre. Il gesto immediato dell'appuntato che ha affrontato il giovane da solo servì a salvare le vite di altre persone. Per questo eroico sacrificio venne insegnito con la medaglia d'oro al valore civile dall'allora presidente Saragat. Oggi presso il piazzale antistante alla stazione carabinieri di Ragusa Ibla si è svolta la cerimonia di intitolazione alla presenza dei familiari di Scifo delle autorità civili, militari e religiose. Presente anche il comandante interregionale carabinieri Calcalber Luigi Robusto che ha sottolineato l'attualità del gesto eroico compiuto da Scifo. È bello ritrovare questi valori da sempre nei carabinieri come nei carabinieri di ieri e anche nei carabinieri di oggi. Sono stimoli per credere che sia giusto credere appunto in questi valori. Sono esempi di vita per tutti a cominciare da noi. Sono anche moniti al tempo stesso per tutti noi, per quelli che semmai hanno paura, per quelli che non credono, per quelli che hanno smesso di sognare. Madrina della manifestazione è stata la figlia Carmela. Dopo gli onori ai caduti e la consegna della bandiera nazionale al comandante della stazione maresciallo Angelo Marco Antonio Valenzisi, da parte del primo cittadino Federico Piccitto, è stata scoperta la targa commemorativa con la motivazione della medaglia d'oro al valore civile all'appuntato Giorgio Scifo. Per noi è un momento sempre estremamente commovente e significativo. in questo caso ha maggior ragione poter intitolare un nostro presidio importante come una stazione carabinieri e poi quella di Ragusa Iblanc lo è ancora di più a un nostro collega, un nostro commilitone caduto nell'adempimento del proprio dovere. Peraltro caduto in terra lontana dalla sua terra natia che è la provincia di Ragusa verso la quale lui non aveva mai cessato di nutrire la speranza di poter tornare un giorno a operare e a stabilirsi definitivamente. Un nuovo robot per migliorare l'offerta sanitaria del Policlinico è stato presentato ieri e permetterà anche di fare interventi chirurgici di alta precisione? Sarà eseguito il prossimo 23 aprile il primo intervento con un nuovo ausilio presso il Policlinico di Catania. Questo ausilio è il robot chirurgico Da Vinci XIHD, di recente acquistato proprio all'Università di Catania e che verrà utilizzato nelle nuove sale operatorie, l'edificio 8 e il Policlinico dove a sede il centro Alte Specialità e Trapiante è l'azienda ospedaliere universitaria per le attività di chirurgia robotica dei reparti programmate settimanalmente. Una chirurgia maggiormente di precisione che va anche insegnata e quindi vanno anche formate le nuove generazioni che nasceranno e cresceranno con un robot già presente a Catania all'Università di Catania, nella Facoltà Medica di Catania. È il primo nel nostro territorio e questo mi rende particolarmente orgoglioso e servirà non solo alla didattica, come diceva, ma anche alla ricerca. Il robot Da Vinci rappresenta la piattaforma più evoluta per la chirurgia mini-invasiva successiva alla laparoscopia, in cui il chirurgo non opera in maniera diretta con le proprie mani ma manovra le braccia robotizzate endo-rised a distanza tramite una console chirurgica computerizzata posta all'interno della sala operatoria. Il sistema computerizzato permette una reale visione in 3D del campo operatorio trasformando quindi il movimento delle mani del chirurgo in impulsi che vengono convogliati alle braccia robotiche. Il robot Da Vinci viene utilizzato per interventi chirurgici in urologia anche pediatrica, chirurgia generale, ginecologia, cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia trapiantologica ed ortorino-laringoiatria. Il robot Da Vinci di ultima generazione ha quattro braccia, unico in grande parte del paese perché è più recente rispetto ad altri, è una apparecchiatura acquistata dall'Università degli Studi in via prevalente per l'assistenza e per la formazione del personale medico, studenti specializzanti della facoltà di medicina. L'azienda ospedaliera universitaria, che è un'azienda di riferimento per la formazione per quanto riguarda l'Università degli Studi, si pone il carico di poterne favorire il miglior utilizzo all'interno del bacino di utenza. Il lavoro è la nostra dignità, il fondamento della vita delle nostre famiglie. Questo è il messaggio lanciato ieri sera nel corso del convegno organizzato dall'associazione Salvuccio Agossa che si è svolto al Duomo di San Giorgio a Modica. Ce ne parla Catiuscia Carpentieri. Famiglia, lavoro e giovani, tre realtà che si intrecciano e che ieri sera hanno dato vita ad un convegno organizzato dall'associazione Salvuccio Agosta, scomparso nel 2004 all'età di 26 anni. L'incontro si è svolto nel Duomo di San Giorgio, visto la presenza del vescovo di Noto, Monsignor Antonio Stagliano, del sindaco Indi Modica, Ignazio Abbate, del docente di religione Salvatore Modica che ha moderato i lavori e ancora di Giovanna Arminio, giuristi per la vita di Giorgio Di Raimondo, della Compagnia delle Maestranze Valdinoto e di Emilio Risicato, della Compagnia delle Opere Sicilio Orientale. L'obiettivo dell'incontro di ieri è stato quello dunque di valutare quali forme di impegno e di riflessione politica la comunità cristiana suggerisce. Venio come questo interessato su famiglia, lavoro e giovani per guardare alla luce del Vangelo i drammi, le fatiche dell'essere umano. Perché la preghiera è anche quella della devozione. Altro non è che salire nel cuore di Dio e poi dal cuore di Dio guardare giù i drammi, le fatiche degli esseri umani e impegnarsi poi concretamente a corrispondere al bisogno di chi ci chiede aiuto. L'associazione Salvuccio Agosta, fondata dal padre di Salvuccio, Giorgio, da anni si impegna nel sociale. Salvuccio era un giovane che sognava di aiutare i giovani ed anche nel corso della sua malattia era sempre presente per aiutare i più deboli. Tutte queste persone che sono presenti a questo convegno io direi di unirsi perché è la parte più sana del territorio perché da sole non riusciamo quindi facciamo rete come la nostra compagnia delle maestranze. La prima rete è la famiglia, poi anche sul lavoro mettersi rete e tutte le associazioni cristiane perché solo il cristianesimo può salvare questa deriva. Da lunedì prenderanno il via i festeggiamenti in onore a San Giorgio, sia a Modica che a Ragusa. Riflettori puntati in particolare a Modica dove la festa esterna si terrà il 29 aprile. Un'anticipazione in questo servizio? È tutto pronto per i festeggiamenti in onore al patrono di Modica San Giorgio Martire. Lunedì, giorno liturgico, si terrà la processione del simulacro piccolo del santo patrono. Una fedele riproduzione che viene portata a spalla dai fedeli più giovani. Un modo per promuovere lo spirito di fede e devozione nei più piccoli. Ma da tenere a mente quest'anno oltre la data del 23 aprile c'è anche quella del 24 quando si terrà un nuovo rito istituito quest'anno. San Giorgio in mezzo a noi. Non mancherà anche quest'anno la solidarietà con la cena solidale la sera del 27 aprile e per finire il 28 uno spettacolo teatrale. La sera del 24, al termine della manifestazione San Giorgio in mezzo a noi, verrà anche proiettato un lungometraggio a cura dei soci dell'Associazione dei portatori di San Giorgio Martire a Modica. San Giorgio quest'anno è iniziato il giorno di Pasqua perché coincide nel calendario, ma liturgicamente è una coincidenza che ha un segno particolare perché proprio San Giorgio testimonia la Pasqua, testimonia la gioia del risorto. La festa esterna è il 29 di aprile ed è il giorno conclusivo di tutti i festeggiamenti perché la settimana inizia giorno 23 con la giornata liturgica, con la festa di San Giorgio Martire, quindi la solennità liturgica. La sera di questo giorno avviene la processione dei bambini. Volevo indicare una data, il 24 aprile, noi come Associazione dei portatori di San Giorgio e in collaborazione con l'Associazione Mater e con la parrocchia Chiesa Madre di San Giorgio, abbiamo voluto organizzare un evento che si chiama San Giorgio in mezzo a noi, in cui il simulacro di San Giorgio per la prima volta viene messo in basso al centro del transetto per essere osservato direttamente dagli osservatori e anche dai fedeli. In questo giorno faremo due appuntamenti di divulgazione culturale. Il primo per i ragazzi e i bambini la mattina alle 10.30 con delle iniziative anche interattive per coinvolgere i bambini e la sera alle 19.30 un altro momento di divulgazione culturale. Alla fine di questa divulgazione serale verrà proiettato il lungometraggio sulla figura di San Giorgio a cura di tre soci dell'Associazione Portatori di San Giorgio. Adesso un appuntamento a Monte Rosso Almo, un'occasione della festa degli Angeli in piazza Sant'Antonio. Si svolgerà la 32esima sagra dei cavatiedi, non solo cavati al sugo ma anche cannoli, crispelle e vino. La serata sarà lietata da musica e balli con gli Amerillo. Ed è vero tutto con questa notizia. Grazie come sempre per averci seguiti. Vi aggiorno alle prossime edizioni di MTG. Da parte mia buon fine settimana. Grazie a tutti.